Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Per tutti coloro che sono in viaggio verso Genova ricordiamo che l'autostrada è interrotta all'altezza del capoluogo Ligure a causa del crollo del ponte Morandi sulla A10, le deviazioni sono segnalate. Traffico invece regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 fare attenzione per un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Vis Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Valsavignone e Canili in direzione Ravenna chiuso lo svincolo di Canili. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con regione toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!